Grazie Presidente. Volevo unirmi ai ringraziamenti dell'Assessore, ovviamente a tutti coloro che hanno collaborato a questa fase di assestamento di bilancio. Una menzione particolare sicuramente al Dottor Cervi e al Dottor Tranfaglia che nella fase di monitoraggio che abbiamo condotto con la Commissione hanno supportato, direi in modo esemplare, i lavori della Commissione. Un ringraziamento anche ai colleghi Presidenti che hanno programmato puntualmente i lavori delle Commissioni congiunte e che hanno quindi permesso insieme ai Dipartimenti e ai Municipi di svolgere un'attività di studio e analisi preventiva che è stata utile per arrivare a un assestamento che direi assolutamente da incomiare per la lungimiranza. Credo che le parole illuminate dell'Assessore nel suo ultimo intervento ne siano testimonianza. Una lungimiranza basata sulla prudenza, sulla volontà di risanamento e sul desiderio di rimettere a posto le cose. Questo è il nostro obiettivo nei prossimi anni. Direi di chiudere questo intervento dichiarando ovviamente il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle che abbiamo instaurato un sistema di buone abitudini, legate all'approvazione dei bilanci nelle varie declinazioni, preventivo, rendiconto annuale, assestamento e presto anche il bilancio consolidato da quest'anno, approvandoli nei tempi, seriamente, seguendo quelle che sono le indicazioni anche dell'organismo di revisione che al di là delle prescrizioni e delle indicazioni è un nostro costante riferimento, malgrado magari qualcuno possa pensarla diversamente. Ovviamente non sottraendoci a quelle che sono anche le critiche, perché le critiche se costruttive, e su questo voglio dire che poi nella Commissione e anche con le opposizioni nel rispetto di quelle che sono ovviamente i ruoli il lavoro è stato comunque sempre mai sopra le righe e sempre rispettoso e con la volontà comunque di proseguire. Questo è secondo me quello che dovrà caratterizzare il nostro lavoro da oggi nei prossimi anni. Io credo che su questo troveremo anche ampia convergenza con chi vorrà fare di Roma una città vivibile e con dei servizi degni della capitale d'Italia e di una grande capitale europea. Grazie.